Una vasta operazione della Direzione Investigativa Antimafia è in corso fra Roma e provincia, nel Lazio e nelle province di Cosenza e Agrigento, per dare esecuzione a 26 misure cautelari nei confronti di altrettante persone e a un sequestro complessivo di 100 milioni di euro. In totale sono state poste sotto sequestro 25 società. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, sequestro di persona e fittizia intestazione di beni. Nella fattispecie si tratterebbe di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, costituente una locale di indrancheta radicata sul territorio della capitale, finalizzata ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche in diversi settori, facendo ricorso poi a intestazioni fittizie per schermare la reale intitolarità delle attività. Sarebbero numerosi settori commerciali coinvolti, da quello ittico alla panificazione, dall'ambito delle pasticcerie al ritiro delle pelli. Fra le 26 misure cautelari firmate, a carico di altrettanti indagati, la DIA di Agrigento ha rintracciato e bloccato un 22enne di Canicattì. Si tratta, secondo quanto emergerebbe, di un giovane che non è collegato agli ambienti mafiosi dell'Agrigentino. L'organizzazione di matrice andranghetista si riproporrebbe, secondo quanto ricostruito dalle indagini, anche il fine di commettere delitti contro il patrimonio e l'incolumità individuale, affermando il controllo egemonico delle attività economiche sul territorio. Le indagini sono il seguito delle 43 misure cautelari eseguite lo scorso 10 maggio che avevano messo in evidenza la presenza dell'andrangheta sul territorio del comune di Roma. Secondo gli inquirenti, a capo della struttura criminale c'erano Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro, legati a famiglie di andrangheta operanti nella zona di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria. In base a quanto accertato dai PM di Roma, coordinati dagli aggiunti Michele Prestipino e Elaria Calò, le attenzioni del clan erano finite anche sul business della ristorazione dei bar.